Eh, volevo parlare, parlo con chi organizza il Max Raduno Punk. Sì, sì. Eh, sì, ma dimmi un po', volevo sapere due cose del Raduno. Cosa? Volevo sapere due informazioni sul Raduno. Sì, sì, credo, dimmi. Eh, dimmi te, chi suona, chi non suona. Eh, sai, noi stiamo organizzando un, diciamo, un incontro per, col comune per vedere se si può suonare. Ah, pure col comune, ma se Raduno Punk non è col comune, è abusivo. Eh, non so se sei messo da Bari. No, però, vabbè, sono del nord, però, vabbè. Poi volevo sapere, è il primo Max Raduno Punk, è questo, però. Cioè, mi sembra un po' rastronzato, è il primo Max Raduno Punk nazionale, cosa? Negli anni 80, Certaldo, i Nabat, il Ripoff, i Rogue. Ho capito, allora, primo si è chiamato per rompere i golini. No, l'ho chiamato per rompere i coglioni, allora, porco Dio, io ho letto un primo Max Raduno Punk nazionale. E io ho detto... Primo Max Raduno Punk, è un primo che voglio fare, organizzare ogni anno, con una data precisa, ben organizzato, con l'aiuto di tutti, se tu hai chiamato per rompere i coglioni. No, allora, io ho letto qua che c'era il primo Raduno Punk sull'Atlog, dove cazzo era. Primo Max Raduno Punk, Schiene Punk è voluta Italia. Come l'hai scritto lì, sembrava che fosse la prima cosa stata fatta in tutto quanto il mondo, ma... Cioè, in realtà in Italia ci sono stati ben altri prima... Non è logico che è il primo Raduno Punk, non è logico, intendevo quello, primo. Cosa? Che non è logico o cosa? Non può essere il primo Raduno Punk. Ah, su cosa era scritto così, il primo Raduno Punk, io dico, porco Dio. Oh, va bene che se mi dici un concerto punk non lo possiamo considerare Raduno, non lo consideriamo un concerto e basta Raduno, è un'altra cosa. Però, cioè, sono stati miliardi di altri di Raduni, molto. Ma io non intendevo il primo in questo, il primo in Italia che si organizza ogni anno con una data precisa. Il primo in Italia, no, perché il primo in Italia c'è sempre stato. E ogni anno... Ma perché ogni anno non si fa più, veramente, ci sono ogni sabato dei concerti. Raduni ne sono stati fatti, c'è stato il Rajoy of Society, c'è stato la Youth Festival a Roma, cioè, nel senso, hanno fatto i miei raduni, non è il primo ogni anno. La Youth Festival ha fatto dei concerti, dei concerti. Eh, ma quelli sono raduni anche quelli, erano due giorni, se non erano raduno, quello, micchia. Cioè, un concerto, puoi dirmi, è un concerto di una sera soltanto, con un gruppo che suona, due o tre. Ma una cosa di due giorni, quello raduno, cioè, sì, sinceramente. Eh? Un giorno invece non si può chiamare Raduno. No, si può chiamare anche Raduno un giorno, però deve esserci, micchia. Cioè, non è una cosa così fatta a babbo, deve essere una cosa, porca puttana, anche suonano dei gruppi seri, e comunque sia, c'è, non potenzione di mettere, faccio il primo raduno punk, ma il primo raduno punk è di cosa? Che ce ne sono stati miliardi, prima che io nascessi, tra un po'. Cosa? Ci sono stati miliardi di raduni punk, prima che io nascessi, ce ne erano già prima, e anche gente. Non c'è, 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 non c'è. Il primo raduno, mai visto, mai sentito una cosa del genere. La mia presunzione è di cosa? Di dirsi semplicemente... Ma cos'è? Da uno che... Cioè, che... Chi ti credo di essere, scusa? Ma scusa, io ti dico, uno che gira da un po', che ti dice, semplicemente, minchia, metti il primo raduno. Ma queste cazzate, ma queste cazzate, ma queste cazzate, gira da un po', gira... Ma che cazzo vuoi? Ma veramente, ma che cazzo vuoi te, più che altro? Ma tu mi hai chiamato, coglione, ma va a coglione. Ma coglione è cosa? Sei te che vuoi fare il maxi raduni schifo? Grazie.